Musica Rieccoci insieme cari telespettatori con il dottor Zara, consulente finanziario per parlare di borse. Vi abbiamo lasciato un po' ieri in sospeso perché abbiamo affrontato il tema della storia delle borse, visto che si festeggia in questi giorni il compleanno. Allora dottor Zara, a questo punto meccanismi delle borse, perché vediamo la borsa di Milano che crolla in virtù del fatto che si verifiano determinati fatti politici, ma noi non comprendiamo perché, com'è possibile prevedere questo e voi che forse in borsa giocate. Ecco, mi fa piacere che ho usato questo termine perché è l'approccio che abbiamo sempre avuto, che molti clienti hanno avuto agli inizi, agli inizi del, quella che è diventata la borsa per tutti. Ovvero? La borsa diventa per tutti quando inizia, quando partono le prime grandi privatizzazioni, alla fine degli anni 90, con Eni, Enel, Telecom, la borsa diventa per tutti. Lo Stato vende dei gioielli di famiglia e le vende attraverso dei collocamenti di azioni. Il fatto coincide, è stata un po' la fortuna anche dei risparmiatori, coincide con due, due anni e mezzo di grandi rialzi. La New Economy, ricordiamo le trasmissioni su Tiscali che arrivava a valere più di Fiat, o trasmissioni in cui si portavano il ragazzino talmente bravo da quintuplicare i risparmi di famiglia. Ricordo personalmente, come fosse ieri, i miei clienti che non si muovevano da casa perché fino alle 5 dovevano stare davanti a televideo. In quei tempi l'informatica non era proprio per tutti, quindi l'unico strumento che ti metteva in relazione con l'annamento di borsa era il famoso televideo. Quindi i miei clienti mi telefonavano e mi dicevano, caspita, come fai a non fare i soldi? Tu stai attento, guardi, scegli il titolo che perde perché sicuramente il giorno dopo guadagnerà molto. Questa era la logica, una specie di gratte e vince senza grattare, dove buttavi comunque portavi a casa. E quello è stato il mercato dei fine anni 90. Cambiato completamente. Alla primavera del 2000 è sceso di tutto e pensa che la nostra borsa ha un indice che è arrivato a valere a primavera del 2000 qualcosa come 34.000. Oggi ne vale 18. Tutto quello che c'è in mezzo è perdita. Quindi il fai da te non funzionava prima, non funziona anche adesso. Pensa, c'è una bella frase che ha usato un broker tedesco in un film che è in proiezione in questo periodo che è Master of the Universe. È un film documentario sulla crisi finanziaria. Confessioni di un broker, è un documentario. Però riporta una frase che è emblematica. 20 anni fa, no 20 anni fa, rispetti, 20 anni fa, anche 10 anni fa per quanto riguarda il nostro mercato, il periodo medio di detenzione di un'azione erano 4 anni. Oggi il periodo medio di detenzione di un'azione sono 20 secondi. Che stress. Quindi non è più un paese per privati. Ecco, le grandi... È troppo rischioso, no? È troppo rischioso, è molto complesso, molto complicato. Quindi le dinamiche sono cambiate completamente? Sono cambiate completamente, assolutamente completamente. Il mondo delle contrattazioni è un mondo ormai pilotato dall'informatica, che compra e vende. Le do anche dimensioni. La nostra borsa ha una dimensione di fatturato, volume, chiamiamola capitalizzazione nel suo vero termine, di poco più di 366 miliardi. La sola Apple ne capitalizza 640. Quindi Apple oggi ha una volta e mezza le dimensioni del nostro mercato. Non riusciamo proprio neanche a comprendere quali sono le dinamiche. No, ci sono realtà, strutture, aziende oggi che superano i connotati dei mercati come abbiamo conosciuto noi. Ecco, abbiamo 30 secondi a disposizione. Era prevedibile il tracollo di Milano che poi si è ripresa? Diciamo che anche noi ci stupiamo della sorpresa. Il nostro è un listino condizionato moltissimo dall'andamento di rumors, notizie, ma soprattutto è una borsa molto fragile, connotata molto dai titoli finanziari. Quindi qualsiasi notizia, positiva o negativa, che riguarda il debito pubblico, si sbatte in alto o in basso in maniera molto forte. Benissimo, allora, io direi che è necessario affrontare un altro capitolo sulle borse, per capire come cimentarsi, quali sono i titoli, quali sono le aziende che si vanno a quotare anche in borsa. Però ne parliamo domani. E quindi grazie di essere stato qui con noi. A voi non perdete l'appuntamento di domani. A voi non perdete l'appuntamento di domani.